Ciao, bentornato sul mio canale Avant Garage Rec Studio. Oggi ti voglio parlare di un problema che ho avuto per anni all'interno di Studio One e di altre Do, ma finalmente ho trovato la soluzione. Sigla! Il problema era questo. Quando andavo a suonare delle note MIDI e a registrarle all'interno di Studio One, mi ritrovavo che in riproduzione, per poter ascoltare quello che ho suonato, dovevo partire sempre dall'inizio dell'evento MIDI. Per farti capire, dato che questa è una tastiera, partivo da questo punto. Ecco, il problema più grande però succedeva quando andavo in riproduzione, quando l'evento MIDI era già stato suonato e registrato ed era già iniziato. non suona completamente niente. Stessa cosa qui. Stessa cosa per gli eventi qua sopra. Cioè, se parto dall'inizio... Se parto dall'inizio suona tutto. Se parto da metà, che ho già quattro note MIDI che stanno suonando, non suona assolutamente nada. Lui sta andando avanti, ma niente di niente. A meno che io non parta da qua e c'è un'altra nota che sta iniziando. Ecco, ma ora come facciamo a risolvere questa cosa? Un paio di settimane fa avevo lo stesso problema all'interno di Logic Pro X. E cosa è successo? Che mi è capitato un video su YouTube dove spiegavano di questa funzione chiamata MIDI Chase per far suonare le tue note anche quando gli eventi MIDI sono già partiti. Cioè, gli eventi MIDI sono lontani dall'inizio in riproduzione, ok? Per intenderci, se noi partissimo da qui, abbiamo già gli eventi MIDI di tutto il brano che sono partiti. Cioè, quindi se io inizio da qui a riprodurre adesso, non sento niente. E mi sono chiesto, ma esisterà questa funzione all'interno di Studio One? Ebbene, l'ho trovata! L'ho trovata, cavolo! Allora, praticamente, bisogna andare sulle impostazioni. Io lo faccio sempre passando da qua sotto, dove ci sono i kHz. Questi sono i setup della song. Noi andiamo sulle preferenze. Andiamo su avanzate, MIDI, guardate un po', insegui note lunghe. Non so perché in italiano è stato tradotto come insegui note lunghe, non so che significato abbia, però, attivato questo, diamogli ok, succede una cosa fantastica. Guardate. Finalmente posso partire in riproduzione sulla mia traccia strumento, quindi sulla mia traccia MIDI, ovunque io sia. Andiamo in fondo. Adesso questo è un beat veramente che ho preso per esempio, però, quando sto lavorando con uno strumento come Arcade, dove proprio si presuppone che una nota lunga rimanga suonata e venga premuta per tanto tempo, sapete che è scomodo ripartire tutte le volte in riproduzione da capo, e finalmente ho migliorato il mio workflow in una maniera semplicissima. Bastava cliccare una casella, insegui note lunghe, insegui note lunghe, non mi sarebbe mai venuto in mente, insegui note lunghe. In inglese dovrebbe essere midi chase. La cosa bella di questa funzione è che rispetto a Logic Pro, dove questa funzione rimane impostata all'interno del progetto, quindi all'interno della song, e bisogna abilitarla ogni volta o lasciarla in un preset di setup della canzone, della song che stiamo realizzando. In Studio One questo rimane all'interno delle preferenze di Studio One, quindi non del progetto a cui siamo legati, quindi una volta abilitata questa funzione, per tutti i progetti che creeremo o che abbiamo già, questa funzione sarà già attiva, cioè Dio benedica Presonus, io adoro questo software ogni giorno sempre di più. Se avete delle domande, scrivetemele pure nei commenti, se avete bisogno di qualche chiarimento, chiedetemelo pure nei commenti o scrivetemi nei miei canali social, vi farò un video al riguardo. Intanto spero che questa piccola chicchetta e questo tip ti sia d'aiuto nelle tue produzioni. Ciao e ricordati di iscriverti se ti è piaciuto questo contenuto. A presto!